Un nuovo espianto da un donatore di organi. All'ospedale Perrino di Brindisi nella notte fra il 23 e il 24 maggio è avvenuto un prelievo di organi da un paziente di 82 anni. Il terzo prelievo avvenuto presso l'ospedale Brindisino nel corso del 2016. Le operazioni, iniziate con l'accertamento di morte e la richiesta del consenso ai figli nel primo pomeriggio del 23 maggio, sono proseguite con l'attività di prelievo iniziata in sala operatoria dopo la mezzanotte e concluse alle ore 6 circa di questa mattina. Un altro grande gesto di generosità da parte dei familiari a cui va la gratitudine dell'intera comunità che riaccende la speranza ai tanti pazienti in attesa di trapianto. Durante le operazioni propedeutiche al prelievo, l'equip medica coordinata dal dottor Massimo Calò aveva ricevuto l'incoraggiamento da parte del coordinatore del centro trapianti regionale, il dottor Gesualdo Loreto, con il messaggio stanotte c'è stato il prelievo di un fegato donato da un 91enne a Cagliari. Lo stanno trapiantando. Gli organi donati a Brindisi dalla donna sono il fegato, prelevato dall'equip piemontese giunta in città durante la notte, e i reni, prelevati da un'equip di Bari. La donazione avviene in concomitanza con la diciannovesima giornata nazionale per la donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule promossa dal Ministero della Salute insieme alle associazioni di settore e al Centro Nazionale Trapianti, sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, che sarà celebrata il 29 maggio 2016. Per celebrare la giornata Brindisi le associazioni locali Aido, Admo, Croce Rossa Italiana, Avis, Ato, Fratres, Fidas e Adisco, in collaborazione con un'azienda sanitaria locale, saranno presenti in corso Umberto per informare e sensibilizzare i cittadini sulle tematiche della donazione e trapianto di organi, infondere la consapevolezza del ruolo determinante che ogni cittadino può svolgere nel sistema di trapianti attraverso la manifestazione della propria volontà a donare le modalità per compilare le dichiarazioni di volontà che ufficializzano il diritto, perché esprimere un sì alla donazione non costa niente, ma può salvare una vita.